Ciao, ben ritrovati nel canale, benvenuti nuovi iscritti, continuiamo con i nostri interattivi e continuiamo con la nostra serie settimanale con queste stese ad ampio respiro. Ovviamente fatemi sapere nei commenti se a questa serie vi piace, se volete qualcosa altro nel canale. Io sto cercando un po' di alternare questa per tenervi compagnia di settimana in settimana, più qualche video sporadico che ogni tanto uscirà. Ovviamente non ho messo da parte le altre rubriche, quindi quelle dei commenti riguardanti i mazzi delle carte, ma ho dovuto accantonare momentaneamente sia i corsi purtroppo, quindi il corso sui tarocchi che mi avete chiesto in tantissimi purtroppo al momento è molto fermo, perché un conto è fare un corso su 40 carte, la facile Sibilla che tra l'altro si leggono solo a dritto, un conto è fare un corso su 78 carte che si leggono dritto e rovescio con tutti gli abbinamenti, quindi patentate un pochino e arriverà tutto. Per quanto riguarda invece i consulti privati, ragazzi mi dispiace dirvi che sono fermissima, purtroppo non ho veramente un briciolo di tempo, perché per questioni personali sto investendo il tempo in altri progetti, però arriverò, non vi preoccupate, non vi ho abbandonati, intanto vi tengo compagna con questi interattivi, nella speranza che voi comunque troviate in questi video qualcosa che un po' vi appartiene. Allora per voi ho preparato tre varianti, ora inizieremo a preparare i mazzetti insieme a voi, così che possiate sceglierli, quindi anzitutto vediamo un po' di prepararli, intanto concentratevi su una delle tre pietre, quindi la variante numero 1 è il quarzo rosa, il numero 2 l'occhio di tigre, e il numero 3 il turchese, so che questa fase di preparazione del mazzetto non è proprio divertente dal vostro punto di vista, però in tanti me l'avete chiesto, vi fa sentire un po' più sereni circa la veridicità di quello che viene detto nell'interattivo, e visto che questo è un qualcosa che si fa per intrattenere, è giusto anche che tutti ci sentiamo quanto più rilassati possibile, giovani e meno giovani. Ok, vediamo un po', vediamo un po' queste energie settimanali, quindi la settimana, che energie avrà? Ok, intanto è uscita la carta della pace, quindi questo è un buon segno, vediamo un po' che energie avranno la settimana, per il quarzo rosa, per l'occhio di tigre, e per il turchese. Per quanto riguarda il sentimento, e il romanticismo, l'amore, gli affetti, vediamo un po' che cosa ci dicono invece gli oracoli del cuore, queste sono fastidiosissime da mischiare, questa versione che ho acquistato io, perché poi quelle classiche in italiano, belle e grandi, fatte dalla My Life, invece sono abbastanza comode, devo dire. Quindi ora rimettiamo dentro, questa signora, e vediamo invece, dal punto di vista sentimentale, cosa hanno da dire per il quarzo rosa, per l'occhio di tigre, e per il turchese, mettiamo questa qui in disparte, vediamo invece, ancora, da un punto di vista energetico, voi invece, come starete, con questi oracolini, quindi abbiamo visto l'energia della settimana, quindi in generale, gli eventi intorno a voi, con le carte degli angeli, con le carte degli angeli del cuore, vediamo invece, dal punto di vista sentimentale, cosa accade intorno a voi, adesso vediamo invece, su di voi, su di voi, che figlio ha questa settimana, vediamo un attimo, le vostre energie questa settimana, vediamo un po', le vostre energie, ne ho pescate due, la terza variante è sempre, un po', un po' ostica, un po' particolare, quella della settimana scorsa, era ricca di eventi, lasciatemi dei commenti, poi, è ovvio che voi siete tanti, quindi magari, alcune cose sono successe lunedì, altre il martedì, altre il venerdì, non fissatevi, perché ovviamente, sono stese generali, però, ovviamente, il senso della settimana, a livello di eventi, a livello energetico, grosso modo, dovrebbe essere quello, allora, vediamo un po', invece, i grandi cambiamenti, o comunque, che cambiamenti, ci consigliano le carte delle farfalle, se rispetto alla settimana scorsa, ci sarà qualche novità, se il cambiamento sarà, dal punto di vista interiore, se ci saranno altri tipi di novità, vediamo un po', con le novità ci arrivano, ci arrivano la settimana prossima, andiamo un po', andiamo un po', copriamo i mazzetti, quindi variante 1, variante 2, e variante 3, ora ve li sistemo, così che, voi, possiate concentrarvi, se siete rimasti con me, fino a questo punto, grazie, ve li sistemo, così che possiate concentrarvi, metto da parte gli altri, oracolini, gli altri mazzetti, sulla scelta della vostra variante, quindi prendetevi tutto il tempo che vi necessita, fate un respiro profondo, mettete anche in pausa il video, se vi è necessario, se vi può essere utile, ed iniziamo con la prima variante, ogni tanto sparisco, vado un attimo a controllare, che stia ancora registrando, perché tante volte, io registro i video, purtroppo questo è il problema, di mettere la telecamera davanti, io registro il video, ma si interrompe, e non me ne rendo conto, quindi devo ricominciare da capo, ok, allora vediamo un po', variante numero uno, quarzo rosa, vediamo come andrà la settimana, ok, quindi vediamo un po' come inizia, la carta della forza, quindi te la leggo, è un momento di forza e potenza, ci vuole coraggio, un nuovo inizio, e grande sessualità, quindi sicuramente, è una settimana abbastanza dinamica, ok, una settimana che si presenta, con un'energia abbastanza forte, ok, adesso andremo a vedere, se questa è una forza, che ti trattiene, oppure tu ti dovrai trattenere, rispetto a questa settimana, quindi fermare, frenare determinati avvenimenti, oppure se dovrai cogliere l'occasione, per essere quanto più propositiva, assertiva, e così via, andiamo un po', dal punto di vista sentimentale, c'è il gioco, quindi grande sessualità, comunque dal punto di vista, degli affetti, e dal punto di vista emotivo, ti vedo abbastanza alle grotto, alle grotte, quindi tanta voglia di giocare, tanta voglia di scherzare, anche col partner, se già c'è, potrebbe esserci questa rinnovata voglia di giocare, scherzare, anche fare qualche piccolo giochino erotico, ok, perché no, se invece il partner non c'è, potrebbe esserci una conoscenza, un'amicizia, qualcuno che si avvicina questa settimana, con un fare abbastanza leggero, ok, quindi è una settimana, che dal punto di vista sentimentale, almeno non mi fanno vedere, cose, diciamo, importanti, quindi grandi passi avanti, importanti, però mi fanno vedere, ecco, questa rinnovata spensieratezza, e questo rinnovato gioco, dal punto di vista emotivo, quattro rosa, che male non fa, e infatti, time for a nap, quindi, la tua energia, qual è? vorresti riposarti, vorresti prendere un piccolo sospiro di sollievo, dire, vabbè, adesso mi fermo, però diciamo che, è un po' in contrasto con l'energia della settimana, perché mentre l'energia della settimana, ti spinge verso il fare un qualcosa di nuovo, verso questa energia, tu, ecco, tu ti freni rispetto a questa settimana, perché invece, nonostante gli avvenimenti, ti chiederanno questo sforzo, tu vorresti proprio riposarti, vorresti stare tranquillo, tranquilla, quindi questa è la tua energia, quella di chi, rispetto agli eventi, un attimo si trattiene, e dice, potti, stai buono mondo, io ho bisogno di rilassarmi, ho bisogno di stare tranquillo, tranquilla, ed in effetti, anche con questa energia del gioco, risuona moltissimo, quindi, la tua energia in generale, è molto in risonanza, con quello che è la sfera sentimentale, almeno per ora, sentimentale, affettiva, perché vedo proprio che hai voglia di relax, e voglio un attimo di staccare la spina, mentre gli eventi circostanti ti spingono un po' a sforzarti, ecco, vediamo un po' qui, un po' di riposo, il cambiamento, e quindi, beh, ci sta perfettamente, io li ho pescate davanti a voi, mi piace questa cosa, quindi, ok, eventi che si susseguono, nuovi inizi, sicuramente, grande sessualità, quindi potrebbe anche essere che, da un punto di vista, diciamo, sentimentale, emotivo, potrebbe esserci qualche incontro passionale, perché no, tanta voglia di giocare, tanta voglia di scherzare, quindi l'energia potrebbe essere investita su quello, però, tutto sommato, ecco, ti vedo, con la volontà di riposarti, di tranquillizzarti, allora, una cosa che potrebbe essere, per te che hai scelto la prima variante, è che, nonostante, dall'esterno, possa arrivarti qualche input, ok, e tu devi fare diverse cose, ok, perché comunque, nella vita di tutti i giorni, nessuno sta a bighellonare, a non fare niente, quindi potrebbe essere che, questa settimana, ti arrivino delle cose da fare, però, lo spirito con cui le affronti, è uno spirito di relax, di calma, di tranquillità, di gioco, quindi ti vedo abbastanza ottimista, variante numero uno, questa settimana, ti vedo abbastanza tranquillo, rispetto alla settimana scorsa, tiri finalmente, questo sospiro di sollievo, questo gioco, che hai col partner, o comunque con le persone, che ti sono accanto, con gli amici, con i colleghi, ti porterà abbastanza fortuna, perché sarà un po', quello che ti farà rilassare, per il resto della settimana, allora, adesso andiamo a vedere, giorno per giorno, le energie, per te, variante numero uno, vediamo un po', cosa succederà, questa settimana, lunedì, è lunedì, c'è il nove di spade, questa sensazione un po', di sentirsi soli, sentirsi in gabbia, quindi, questo potrebbe, derivare un po', della settimana passata, quindi, variante numero uno, cerca di capire un po', anche da questo, se è la tua variante, ok, perché qui, ecco, c'è, diciamo, ci sono degli eventi, delle situazioni che devi affrontare, ma queste situazioni ti causano un po' di ansia, ok, potresti sentirti solo abbandonato lunedì, nel senso che magari ci sono anche delle persone che potrebbero aiutarti, ci sono anche delle situazioni che potrebbero rivelarsi utili o favorevoli, però, ecco, vedi, proprio come questa persona che è in una gabbia, ma in realtà la porta è aperta, un po', è la sensazione che tu, ok, ti senti in una gabbia d'oro, c'è la via d'uscita, però lunedì sembra che tu non riesca a vedere questa via d'uscita, ed ecco perché un po' di stress potrebbe nascere, ok, però è più una questione mentale che vera e propria, vediamo martedì se si risolve, martedì si risolve, c'è il 3D coppe, quindi finalmente c'è una bella risoluzione, perché no? quindi se c'è qualcosa che lunedì ti mette ansia, ti mette in soggezione, ti fa sentire un po' in solitario, in solitudine, non amato, non apprezzato, non coinvolto in determinate situazioni, ecco martedì vedo ribaltarsi completamente la situazione, ti vedo in allegria, in compagnia, in compagnia limitatamente ovviamente al periodo storico che stiamo vivendo, potrebbe essere anche una compagnia virtuale, però in ogni caso vedo proprio questo risollevarsi dell'umore, ok? per molti di voi potrebbe essere un momento di acquisti, un momento in cui vi dedicate a voi stessi, un momento in cui vi dedicate perché non anche al vostro aspetto, perché potrebbe anche essere un momento proprio in cui vi fermate e dite ho bisogno di ricongiungermi a me, e qui ecco questo gioco col 3D coppe potrebbe essere anche un qualcosa da festeggiare, quindi martedì potrebbe esserci un evento anche da festeggiare, qualcosa di bello per voi. Vediamo mercoledì, mercoledì c'è la torre, quindi questo evento improvviso che un po' vi scombussola, potrebbe arrivarvi qualche notizia un po' sgradevole, quindi occhio, tenetevi pronti, però questa notizia che vi arriva che è un fulmine un po' a ciel sereno, in realtà, vi ripeto, è una conseguenza un po' di quello che è stato fatto nelle settimane precedenti, quindi non è proprio, è un fulmine a ciel sereno, sì, perché è un evento improvviso, però tutto sommato c'era un po' da aspettarselo, quindi ovviamente voi siete tanti, potrebbe essere qualsiasi cosa, potrebbe essere, non so, venite a sapere di qualcosa all'improvviso che è poco piacevole, che riguarda un amico, un parente che ha sparlato di voi, potrebbe esserci un litigio con una persona, potrebbe essere che vi fraintendete, quindi vi fraintendete col partner o con una persona a cui tenete, e con cui c'è già una situazione un po' traballante, ed ecco, mercoledì un po' c'è questo scoppio. Vediamo un attimo giovedì, giovedì c'è il re di spade, quindi comunque ecco, chiederete nuovamente il consiglio, il parere di una persona, e questa persona sarà abbastanza rigida, abbastanza logica, abbastanza razionale, però comunque vi darà il consiglio giusto, quindi se qui siete un po' altalenanti, lunedì un posto in sordina, martedì alle grotti, ma mercoledì scoppia tutto quello che deve succedere, giovedì vi vedo fare riferimento a una persona abbastanza importante, che potrebbe essere anche un medico, uno psicologo, un amico, un superiore, un datore di lavoro, che in qualche modo, in maniera molto logica, e molto puntuale, vi dà il consiglio su quello che dovete fare, quindi qua io vedo un consiglio, però dato non tanto con empatia, quanto più per logica, quindi io giovedì vedo il trionfo della ragione, nei vostri confronti, vediamo venerdì, venerdì c'è il cavaliere di bastoni, quindi il ricominciare con energia, quindi comunque questo scossone, male non vi fa, perché inizierete a valutare altre strade, quindi quello che succederà qui, è che voi tutto sommato avrete, vedete la forza, come vi dicevo, saranno eventi più esterni, in effetti qua la torre, sempre un qualcosa, un fulmine che arriva da fuori, che ti scuote dentro, ma è sempre una cosa che viene da fuori, una cosa che non ti aspetti, ed ecco in effetti qua, questa carta vi dice, ci saranno nuovi inizi, e qui arriva il cavaliere di bastoni, quindi verso il fine settimana, ci sarà questo nuovo inizio, non è detto che sia un cambio radicale, però potrebbe essere un qualcosa di nuovo, che arriva nella vostra vita, un qualcosa che viene a seguito di questo confronto, di questo trionfo della ragione, del giorno precedente, a seguito di questo scossone, quindi il guardare a nuovi orizzonti, l'andare verso una nuova avventura, però tutto questo con il cuore messo in pace, proprio perché voi avete bisogno di questo riposo, e io non escludo anche che questa torre, questo stress che vi arrivi, questo scossone, finalmente sia un modo per dire, guarda che se tu continui così, non è che raggiungi il riposo che tu vorresti, la tranquillità che tu vorresti, quindi un po' l'universo settimana prossima vi aiuterà ad uscire da questa gabbia, da questa prigionia mentale che voi avete, da questa ansia, mettendovi in primo piano, quindi comunque dovete affrontare questa situazione dando il massimo, e poi finalmente nel venerdì iniziare un qualcosa di nuovo, quindi iniziare a muovervi, però sempre con questo senso, questo stato dativo, che è molto più positivo di quello che voi vi potete aspettare, se in questo momento dite caspita arriva la torre, chissà cos'è eccetera, no, state tranquilli, perché comunque giovedì e venerdì voi l'affrontate con razionalità, quindi da un punto di vista emotivo, finalmente direte, oh, era ora che succedesse questo, mi sono svuotata, mi sono liberata di tutto quello che dovevo dire, ma andatevene tutti dove dovete andarvene, io inizio un qualcosa di nuovo, ok, affrontate la situazione in modo diverso, più spensierati, più energici. Vediamo sabato, sabato infatti il giudizio, vedete, sabato vi rigenerate completamente, finalmente arrivano tutte queste notizie, arrivano le notizie che stavate aspettando, se aspettavate una chiamata, questa chiamata vi arriva, se aspettavate una comunicazione, un segno, un segnale, questo segnale vi arriva, se diciamo, avete bisticciato con qualcuno, mercoledì, sabato, potreste fare pace, o comunque potreste ricevere notizie da parte di questa persona, questa persona potrebbe fare un passo avanti, o questo gruppo di persone potrebbero tornare sui loro passi, io quello che vedo qui, vedete, è proprio un ricostruirsi dalle macerie, quindi ecco, questa sarà una settimana molto da fenice per voi, vediamo domenica, infine, che energia c'è, la regina di bastoni, quindi comunque, io direi che per voi, la settimana si conclude veramente con il riposo, fondo mazzo c'era il re di bastoni, quindi si conclude veramente con il riposo, per molti di voi potrebbe esserci l'aiuto di una persona, a voi cara, che potrebbe essere un genitore, o potrebbe essere il vostro partner, se ce l'avete, o un amico fidato, un amica fidata, un datore di lavoro, o comunque una figura che è di rilievo nella vostra esistenza in questo momento, che veramente vi darà modo di vedere la situazione da un punto di vista completamente nuovo e diverso, per alcuni di voi potrebbero esserci delle problematiche con i figli, però nulla che non si risolva nel fine settimana, ecco nel fine settimana io vedo finalmente questo riposo tanto aspettato, ma inizia già da venerdì questo riposo tanto aspettato, ok? Quindi, variante numero uno, mi dispiace, perché io vedo che tu vorresti riposarti tantissimo, vorresti un attimo di pausa, però sappi che per come ti stai comportando in questo momento, l'universo non ti fa arrivare a quel riposo, ok? Perché c'è bisogno di tagliare delle situazioni, e arriverà l'universo a portarti su un piatto d'argento la soluzione, ok? Quindi non ti spaventare se all'inizio della settimana potrebbero esserci delle situazioni un po' complicate, perché comunque poi si andranno a risolvere. Allora, variante numero uno, spero che l'interattivo ti sia piaciuto, ovviamente fammi sapere se ha risuonato o se non ha risuonato con te, ovviamente se non risuona nulla, cerca qualcosa nelle altre varianti, potrebbe essere che non è questa la variante giusta per te, quarzo rosa, sì, quarzo rosa direi che qui il cuore è proprio incentrato sul chakra del cuore, anche in questo caso, diciamo la forza incentrata sul cuore, il coraggio anche di affrontare determinate situazioni, quindi mi raccomando, tieniti forte, variante numero uno, andiamo alla variante numero due, benvenuti in questo interattivo, andiamo a vedere questa settimana per te, occhio di tigre, come si evolverà, come si evolverà, quindi il tempo, c'è un congelamento della freddezza, la situazione è ferma e bloccata, ci vuole tempo e bisogna riflettere, ok, occhio di tigre, diciamo gli eventi di questa settimana saranno abbastanza lenti, è questo quello che ti sta dicendo questa carta, ok, quindi c'è bisogno di pazienza in questo caso, c'è bisogno di attesa, c'è bisogno di riflessione, diciamo non si può avere tutto e subito, ok, quindi occhio di tigre, tu che hai scelto l'occhio di tigre, ti esce il consiglio del tempo, quindi magari entri in questa settimana, oppure stai guardando questo interattivo con la speranza che succedano determinate cose subito, ok, così, però no, ok, quindi c'è bisogno di un attimo di frenare, ok, qui è proprio una questione di tempo divino, vediamo un po' da un punto di vista amoroso, c'è il nuovo amore, quindi una nuova persona è entrata nella tua vita sentimentale, quindi qui da un punto di vista sentimentale, dal punto di vista affettivo c'è una new entry, potrebbe essere un nuovo amico, potrebbe essere una nuova persona proprio che entra nella tua vita, potrebbe essere già entrata questa persona, e questa settimana comunque ti concentri su questa persona, occhio il tempo, quindi con calma, non ti preoccupare se c'è un congelamento, se ci sono delle situazioni un po' particolari, ecco, ti richiede molta pazienza questa situazione, vediamo la tua energia qual è, happy happy, quindi comunque diciamo che questo amore, questo nuovo amore che è entrato nella tua vita, ti sta dando lo sprint giusto, sarà una settimana in cui affronterai tutto con ottimismo, quindi da un lato le energie dell'universo saranno abbastanza lente, ok, dall'altro invece vedo te che, te ne freghi, dici vabbò io sono felice, vediamo il cambiamento, guarire il passato, beh, happy happy è guarire il passato, direi occhio di tigre, occhio di tigre, diciamo che questa settimana inizia proprio con un'energia molto, molto positiva, quindi questa nuova persona che è entrata nella tua vita, ti sta aiutando proprio a guarire vecchie ferite, ok, o comunque questa sarà una settimana di guarigione, ok, di soddisfazioni, di piccole soddisfazioni, che tu ti prenderai nel bene o nel male per risolvere alcune situazioni passate, ok, questo potrebbe essere ad esempio che hai conosciuto questa nuova persona, che ti sta aiutando un po' a capire com'era la tua vecchia situazione affettiva, che non sei tu la persona sbagliata, perché in amore nessuno è mai sbagliato, semplicemente non si è compatibili, non ci si trova nel momento giusto, non si comunica nel modo giusto, questo ricordatevelo sempre, che non è mai sbagliata né l'altra persona né voi, ok, non esiste una cosa che l'universo crea in modo errato, ok, ricordatevi che c'è sempre un piano che noi non comprendiamo, perché siamo troppo in basso, un po' come i bambini che non capiscono i genitori, allora qui invece per te, variante numero due, c'è proprio una settimana, qua c'è l'asso di bastoni, quindi comunque il nuovo inizio, il nuovo inizio è sotto che cosa c'è, il 3D cop, quindi comunque questo nuovo inizio molto allegro, molto sentimentale, molto passionale, molto romantico, che vi rende molto felici, e che questa persona, comunque questa settimana, questa persona, questa energia vi sta aiutando a ripulire un po' le energie, quindi è una settimana di pulizia energetica, pulizia emotiva, pulizia mentale, qui è uscito di nuovo la carta dell'eremita, quindi comunque è un qualcosa che vi aiuterà a fare anche abbastanza introspezione, ed ecco perché è uscita anche qui la carta del tempo, quindi questa settimana sarà, la percepirete anche abbastanza lenta, nello scorrere, nonostante voi siete così felici, ma questo è normale, perché in realtà, quando c'è questo lavorio interiore, che magari arriva anche in maniera inconscia, il tempo sembra scorrere molto più lentamente, perché ci proiettiamo verso il nostro mondo interiore, il nostro mondo interiore ha i suoi tempi, ecco qui la carta della giustizia che è caduta giù, quindi comunque vedete, è proprio un momento carnico questo, di pulizia, vediamo un po' giorno per giorno, come andrà questa settimana per te, occhio di tigre, quindi finora abbiamo detto, un qualcuno che entra di nuovo nella nostra vita sentimentale, che ci rende felicissimi, occhio potrebbe essere anche un amico, non deve essere già seriamente un partner, sfera affettiva, però penso sia più una questione di innamoramento, che ci rende proprio felici felici, e ci fa fare un po' di lavorio rispetto al passato, vediamo un po', lunedì, lunedì c'è il papa, quindi una giornata all'insegna dell'equilibrio, all'insegna della moralità, all'insegna della spiritualità, comunque una giornata abbastanza tranquilla, in cui vi sentirete in pace con gli altri, vi sarà chiesto di dare dei consigli, e voi darete dei consigli che sono abbastanza centrati, lunedì abbastanza, diciamo, nell'ottica di far emergere quello che avete studiato, far emergere quello che voi siete, però non con forza, con prepotenza, cioè sarete una figura di riferimento per altre persone, potrebbe essere anche, potreste essere anche una figura di riferimento nei confronti dei vostri genitori, o dei vostri figli, quindi della famiglia. Martedì il diavolo, ed ecco qui, il sacro e il profano, quindi martedì un po' di rabbia, perché potrebbero esserci delle situazioni intorno a voi, e non proprio piacevoli, vi potreste sentire vincolati ad una situazione non proprio pulitissima, non proprio allegra, quindi potrebbe venirvi un diavolo per capello, come si usa a dire, quindi un po' di rabbia, un po' di aggressività anche, potrebbe venire dagli altri, potrebbe venire da voi, ovviamente voi siete tantissimi, però con questa energia happy happy, mi viene più da pensare che potrebbe essere un'energia anche abbastanza sessuale, sensuale, quindi potrebbe essere una giornata abbastanza erotica per molti di voi, erotica con incontri laddove è possibile, con sexting laddove non è possibile l'incontro, o comunque qualcuno potrebbe farvi un attimo arrabbiare, potrebbe venirvi una persona poco pulita, però le energie che avete voi, diciamo non vi fanno passare liscia, questa energia di intrusione che c'è, ok, quindi non apprezzate molto le intrusioni martedì e le tagliate fuori. Mercoledì, mercoledì c'è il 2 di spade, quindi mercoledì, ecco da martedì potrebbe arrivare un po', un po' di tensione, ok, nonostante comunque mi parte la settimana con questa energia di conoscenza assoluta e di saggezza, perché dall'altra parte, ecco qui potrebbero scontrarsi due personalità abbastanza forti e mercoledì potrebbe esserci appunto questa piccola tensione che si potrebbe creare fra due parti, ok, quindi martedì un po' di incazzo, mercoledì proprio questo equilibrio che si tiene a pelo a pelo con la tensione che si taglia col coltello, insomma, fra due persone. Non è detto che sia col partner, potrebbe essere con chiunque, anzi col partner io vi vedo abbastanza tranquilli, ma in generale vi vedo abbastanza tranquilli, abbastanza energici. Quello che potrebbe succedere anche mercoledì è che arrivi qualche sorpresa nella vostra vita che non vi aspettate, ok? Giovedì, giovedì c'è il sette di bastoni, quindi comunque continuare a difendersi. Quindi sicuramente potrebbero esserci dei conflitti con dei genitori, con degli amici, non la vedo tanto una situazione emotiva, affettiva, quanto più una situazione romantica, quanto più una situazione con altre persone, con altre situazioni, potrebbe essere anche da un punto di vista lavorativo. Ecco, io qui se è mercoledì vi vedo un attimo tesi tesi per dire adesso non vi sticciamo, giovedì invece voi dite basta, mi sono proprio stancata, e tra l'altro siete uno contro tanti, oppure uno contro, diciamo, il vostro punto di vista, contro quello di una persona che cambia continuamente il punto di vista, che trova tutti i modi per attaccarvi, però vi vedo difendervi abbastanza bene, tra l'altro giovedì potreste scoprire una verità. Poi venerdì, andiamo venerdì, diciamo anche qui, vi vedo con questa energia abbastanza importante di spingervi contro determinate situazioni, però anche qui vi difenderete a spada tesa, diciamo che qui è proprio una climax, perché se martedì subite qualcosa, ecco venerdì poi io dite basta, mi sono proprio stancato, stancata, adesso ti faccio vedere io, ti faccio proprio ricordare il mio nome, il mio cognome, e anche il mio codice fiscale. Vediamo sabato, sabato ecco, rimanete un po' amareggiati, quindi occhio di tigre, questo tempo, questa freddezza, ma questa introspezione, però diciamo che le prime varianti, diciamo la vostra energia, è un po' l'energia ecco esterna, è un po' quella dell'eremita, quindi diciamo queste situazioni ecco, vi aiuteranno un po' ad uscire allo scoperto, ok, il sabato lo passate un po' diciamo in ansia, un po' arrabbiati, un po' con questa voglia di starvene da soli, vediamo la domenica, c'è il fante di coppe, quindi la domenica comunque il sentimento, e il romanticismo, occhio perché se non avete ancora conosciuto qualcuno, questo qualcuno potreste conoscerlo sul finire della settimana, se invece avete conosciuto qualcuno, ecco qui vedo più una situazione legata ad altre sfere, potrebbe essere lavorativa, potrebbe essere un amico che vi rompe le scatole, potrebbe essere un genitore, e poi nel fine settimana ve la vedo risolvere appunto, da questo nuovo amore che entra nella vostra vita, quindi comunque il sentimento prevale. Guarire il passato perché? Ecco, guarire il passato io penso che queste situazioni che stanno arrivando, sono in realtà una conseguenza di un'attitudine, di un atteggiamento, di errori che sono stati compiuti in passato, perché comunque il diavolo potrebbe anche rappresentare qualcosa, uno schema tossico, ecco, che deriva da altre situazioni, quindi se ad esempio voi siete sempre quelle persone che vi prestate, che dite sempre sì, che dite sempre ok, va bene, poi magari sotto sotto vi avvelenate, ecco questa è una settimana in cui dite, non mi avveleno più. E sarà proprio questo sentirsi felici, questo sentirsi in energia, questa voglia di guarire il passato, che un po' vi farà dire adesso basta. Della freddezza sì, perché in tutta la settimana io vedo molto un gioco mentale nei vostri confronti, quindi, cioè da parte vostra scusate, quindi la sfera emotiva protetta, soprattutto nel weekend. Per quanto riguarda invece il resto, vi vedo molto concentrati sul mentale, perché vi siete stancati di una situazione tossica, ok? Quindi qua veramente sotto il fondo del mazzo c'è la giustizia, qui ci sarà proprio un tagliare situazioni che non vi stanno più bene questa settimana, per guarire il passato, quindi guarire situazioni che sono accadute nelle settimane precedenti, o in un passato anche abbastanza lontano. Ed ecco perché qui è uscita la carta del tempo, quindi c'è un congelamento, sembra quasi che ogni giorno qui si ripetano sempre le stesse cose, finché, vedete, c'è proprio una climax, quindi da fuori queste situazioni pesanti, poi questa sorta di tregua, che in realtà non è una vera tregua, per poi riprendere e arrabbiarvi veramente tanto venerdì. Io poi vedo il fine settimana abbastanza tranquillo, un fine settimana in cui magari siete un po' tesi, però sarà questa nuova persona, questa nuova conoscenza a ritirarvi su di morale, quindi verso la fine della settimana vi vedo proprio tranquilli, ok? Quindi iniziate la settimana tranquilli e finite la settimana tranquilli, sarà nel mezzo che ci sarà un po' di turbinio. Ok, variante numero due, spero che l'interattivo ti sia piaciuto, ecco perché venivano queste carte di guarire il passato, ricordati sempre che le cose avvengono sempre per un motivo, c'è sempre un motivo per tutto, e anche l'arrivo di questa persona nella tua vita, che ti tira un po' su, ok? Ti rende felice, potrebbe essere proprio una conseguenza delle cose belle che ti devono succedere, per affrontare un po' questa settimana, che tutto sommato ti farà risolvere situazioni che ti trascini già da un pezzo interiormente, ok? Quindi ti lascio, spero che l'interattivo ti sia piaciuto, non ti spaventare, tutte le settimane terminano, e questa settimana che arriva terminerà da Dio, con un bel poggio di coppe, quindi tanti sentimenti, continua ad essere happy happy, e andiamo alla variante numero tre. Ok, turchese, vediamo un po' come andrà questa settimana, quindi l'energia generale è quella della giustizia, ci sono problematiche e controversie, attenzione litigio alle offese, le parole sono taglienti e c'è voglia di ferire, ok? Beh, devo dire che queste settimane arrivano abbastanza, abbastanza gamba tesa per molti di voi, quindi potrebbe essere una situazione, ecco, non proprio allegra, ok? C'è questa carta della giustizia, la carta della giustizia è sempre qualcosa in questo mazzo che arriva per tagliare, ok? Quindi potrebbero esserci appunto delle controversie, potrebbe essere una di quelle settimane in cui tutto deve andare con rigore, quindi arrivano delle cose fatte con un certo schema, con un certo rigore, e tutto questo ovviamente è l'energia esterna, ok? Vediamo il sentimento, guarire situazioni familiari, ed ecco perché la controversia è la giustizia, quindi questa potrebbe essere una settimana in cui ci si dedica un po' a risolvere alcune questioni in famiglia, alcune questioni in famiglia che potrebbero essere tra genitori e figli, ma potrebbero essere anche tra partner, potrebbe anche essere che la famiglia in qualche modo sta influendo sulla vita sentimentale, quindi questa potrebbe essere una settimana risolutoria da questo punto di vista, controversia sì, situazioni un po' particolari sì, però tutto sommato c'è questa energia di fondo, quindi è una settimana, non dico risolutoria, però in cui si inizia un po' ad avere questa voglia di risolvere, ok? Quindi ci si sforza un po' di risolvere. Vediamo un po' che cosa esce qui, caos e conflitto e perché? E infatti, caos e conflitto e perché? Perché? Sì, le controversie diciamo, sono abbastanza in linea, quindi voi siete abbastanza in sintonia con quello che sta succedendo intorno a voi, questo è quello che mi stanno dicendo le carte, e poi accogli il nuovo, quindi ci sarà qualche novità per voi, ok? Rispetto alla settimana scorsa, ci sarà qualcosa che potrebbe arrivare di completamente inaspettato, però questa cosa potrebbe generare un po' di conflitto, potrebbe generare un po' di amarezza nei confronti dei genitori, nei confronti del marito, nei confronti dei figli, insomma, problematiche all'interno della casa, qui mi fanno vedere, quindi turchese, la comunicazione qui, occhio, proprio perché hai scelto il turchese, ti attire, è una pietra che lavora anche sul chakra, della gola, quindi qui c'è bisogno proprio di parlare, ok? Di esprimersi, di dire la propria, però di dirla con un certo equilibrio, ok? Qui c'è il re di bastoni, quindi comunque il marito, il padre, e qui c'è il sole, è la regina di bastoni, quindi comunque nulla che non sia risolutorio, anzi vedo proprio che l'iniziativa la prendi, l'iniziativa qui viene presa, già le carte saltando fuori me lo fanno vedere, re di bastoni, sole, regina di bastoni, quindi comunque un accordo in qualche modo lo si trova, un equilibrio in qualche modo tra le parti lo si trova, certo è, certo è che questa energia di caos e conflitto e di perché, mi fa pensare che vi stiate ponendo determinate domande, sul perché ci siano continuamente litigi in casa, sul perché ci sia sempre questa situazione conflittuale, o sul perché sia scaturita questa situazione, quindi comunque prima è uscito il fante di spade, una situazione in cui iniziate un po' a guardarvi intorno, a riflettere, perché magari non è una questione che parte dal vostro nucleo familiare e basta, non è una questione che parte da voi il vostro partner, o da voi i vostri genitori e basta, magari ci sono delle questioni che dipendono anche da altre persone, ok, magari c'è qualcosa che non va a prescindere, qualcosa che vi è stato tenuto nascosto, ok, quindi c'è un po' questa riflessione da parte vostra, questa è la vostra energia, perché comunque c'è qualche novità in arrivo, c'è qualche novità in arrivo, mischiamo ancora le carte per il turchese, vediamo un po', vediamo un po' la settimana in arrivo per te. Lunedì, il Papa anche qui, e qui c'è un'energia un po' legata alla famiglia, legata ai genitori, legata alla moralità, un'energia abbastanza serena, abbastanza tranquilla, quindi lunedì anche qui inizia abbastanza sereno, però con questa energia, quindi con la giustizia, col Papa, quindi teniamo conto un po' anche di questa energia che avete voi, questa spinta del caos e conflitto, quindi questa litigiosità pure che avete, beh, col Papa potrebbe anche essere che qualcuno vi venga a dettare regole, ok, quindi lunedì qualcuno potrebbe dirvi, devi fare così, 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 perché è giusto fare così, così, è sempre stato fatto così, quindi non si può cambiare, questa cosa, diciamo, non è che vi piaccia tantissimo, anche se partite con un lunedì abbastanza tranquillo, diciamo, è il preludio di un qualcosa che non è che tanto vi piaccia, martedì, è infatti l'otto di spade, ecco, neanche il tempo di dirlo, quindi lunedì qualcuno vi viene a dire, bisogna fare così, 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 è sempre stato fatto così, tuo nonno ha sempre fatto così, in questa azienda si è sempre stato fatto così, in Italia si è sempre fatto così, insomma, è questo si è sempre fatto così, che adesso vi sta stancando, perché comunque c'è un'energia di forte ribellione dentro di voi, e l'otto di spade qua mi fa proprio pensare che se lunedì è accettato un compromesso, martedì vi sentirete soffocati da questo compromesso, soffocati da queste regole, che non vi appartengono, ok, perché il Papa è sempre una moralità che non ci appartiene, che viene trasmessa, ok, è l'esito di uno studio, di un testo, di un libro, ma non è il nostro libro, è un libro che qualcuno ha scritto per noi, quindi martedì finalmente ci stanchiamo, quindi variante numero tre, io qua inizio a vedere questo caos e conflitto, ok, quindi, andiamo un po', martedì, quest'ansia, questo sentirsi in trappola, questa voglia di dire, ma che cosa sto facendo, questa riflessione, questa angoscia, vediamo mercoledì, c'è la temperanza, e quindi qua c'è un bel discorsetto che viene fatto martedì, qui c'è un bel discutere con qualcuno martedì, però al momento io vedo una discussione abbastanza tranquilla, ok, perché la temperanza comunque è una carta risolutoria, una carta di riappacificamento anche, una carta di trasformazione, potrebbe essere anche la carta di, non so, laddove è possibile, non so, vediamoci per un caffè, in macchina, sono tempi abbastanza difficili, però la temperanza sono anche i bar, quindi potrebbe anche essere, perché no, una risoluzione davanti a una tazza di caffè, magari, non so, voi andate a parlare a qualcuno, e dite, prendiamoci un attimo sto caffè, io vengo a casa tua, e ci prendiamo un attimo sto caffè, laddove è possibile, oppure, andiamo alla macchinetta del caffè, e risolviamo sta situazione, comunque a mercoledì vi vedo risolvere questa situazione, quindi vi vedo cercare un po' di mediare le parti, vediamo un po' giovedì che cosa succede, giovedì c'è il 6 di denari, quindi, in qualche modo, venite ascoltati, ok, quindi se da un punto di vista emotivo e sentimentale, ci sono delle situazioni un po' caotiche, io qui durante la settimana, soprattutto sul piano lavorativo, vi vedo, nonostante queste angosce, ok, queste regole che vi vengono imposte, che vi stanno molto strette, se parlate, comunque quello che voi chiedete, poi vi viene dato, quindi qui è proprio una questione, cioè il conflitto è più dentro di voi, perché quello che percepisco da questa stesa, variante numero 3, è che magari certe cose ci si aspetta che vengano da sé, ci si aspetta di non doverle chiedere, ok, però in questo caso, io qua ti vedo chiedere qualcosa, e ti verrà dato, ok, quindi non ti preoccupare, fatti avanti, è infatti cavaliere di denari, quindi 6 di denari, cavaliere di denari, quindi non solo ti viene dato, ok, quindi non solo ti viene promesso che ti verrà dato, e ti verrà dato quello che chiedi, ma c'è una promessa, per fare un qualcosa di a lungo termine qui, quindi se ci sono stati dei conflitti in famiglia, delle situazioni in cui non vi siete compresi, non vi siete capiti, forse questa è una settimana di risoluzione, ok, il nuovo qui, il nuovo lo potrei vedere, sia come un qualcosa all'interno della famiglia, quindi questa nuova energia, ok, magari sarete sorpresi, perché comunque il cavaliere di denari, porta questo pacco in dono, e qui ci sono dei doni, quindi potrebbe essere anche una sorpresa, perché no, qualcosa che vi arriva in modo inaspettato, ma positivo, molto positivo, e quello che vedo, che anche dal punto di vista lavorativo, potrebbe essere, magari ci sono in famiglia questi contrasti, perché no, però dal punto di vista lavorativo, potrebbe esserci una risoluzione, degli straordinari che vi vengono riconosciuti, voi magari chiedete, di prendere qualcosina di più, e vi viene riconosciuto, oppure chiedete, non so, di poter lavorare da casa, e vi viene riconosciuto, quindi io qua vedo proprio, che voi chiedete qualcosa, e vi viene riconosciuto, soprattutto sul piano pratico, quindi cercate di capire un po' voi, la vostra situazione, quindi orate a venerdì, sabato, l'asso di spade, e qui, vi voglio, l'asso di spade, che sicuramente è una novità, un inizio, un po' difficile, ma è un inizio, quindi occhio a quello che chiedete, perché questa settimana vi verrà dato, e occhio ovviamente alle conseguenze di ciò che chiedete, perché se ad esempio voi chiedete di fare il manager della vostra azienda, faccio un esempio, ok, poi comunque vi verrà chiesto di prepararvi, formarvi, vi verrà richiesto più tempo, vi verranno richieste più preoccupazioni, vi verranno richieste più, com'è che si dice, responsabilità, ok, per quanto riguarda invece i conflitti familiari, ecco, io sabato vedo che finalmente voi prendete la situazione in pugno, e affrontate la situazione in modo logico, in modo chiaro, quindi la parola, la parlantina, qui non vi mancherà, taglienti, sì, però laddove è necessario, quindi non vedo cattiveria, qui, ok, qui ci sono dei conflitti, delle situazioni un po' amarognole, che dovete ingoiare, che state ingoiando già da un pezzo, però qui vedo che viene fatta giustizia, ok, quindi ci sono delle situazioni che non tanto vi piacciono, però questa è una settimana di giustizia, ok, quindi l'universo vi aiuta a risolvere delle situazioni che vi trascinate già da un pezzo, problemi in famiglia potrebbero essere risolti, soprattutto verso la metà della settimana, quindi non vi preoccupate, perché sarà una settimana in cui taglierete ciò che c'è da tagliare, e riequilibrerete con questa temperanza bellissima e fortunatissima, quello che c'è da riequilibrare, vediamo domenica infine come si conclude, col 9 di coppe, quindi tutti felici, contenti, come se non fosse accaduto niente, il fondo del mazzo c'è il 5 di coppe, quindi partite con un po' di pessimismo, questo sì, però comunque la settimana la affrontate, devo dire, gli eventi che si susseguono sono abbastanza positivi, anzi finalmente, devo dire, viene fatta giustizia in determinate situazioni, soprattutto in ambito lavorativo, qui vedo, ma anche da un punto di vista familiare, vi vedo finalmente chiedere qualcosa, chiederla con l'energia giusta, perché voi arrivate a un certo punto facendo le domande giuste, tipo, oh ma perché tu non mi fai fare questa cosa, oppure ma perché ti comporti così, ma perché non mi paghi di più, quindi proprio queste domande così, innocenti, taglienti, serie, sincere, brevi, però che arrivano dritto al dunque, quindi questa settimana sarà una settimana in cui arriverete dritti al dunque, la risoluzione delle questioni la vedo, ok, quindi non vi preoccupate anche se ci sono conflitti col partner, oppure con la famiglia di origine, o con i suoceri, vi vedo abbastanza tranquilli, e sulla fine della settimana vi vedo anche abbastanza gioiosi, ok, allora variante numero 3, spero che l'interattivo ti sia piaciuto, che tu ti sia ritrovato, ritrovata, è una bella settimana, bella tosta tosta, quindi parti un po' un po' un po' teso, ok, un po' tesa, però devo dire che è una settimana risolutoria, quindi sei abbastanza sereno, tranquillo, che giustizia verrà fatta in questo caso, almeno per quanto riguarda questa variante, ok, spero che l'interattivo vi sia piaciuto, mi dispiace un po' se avete visto del sole che va e viene, purtroppo non dipende da me, ma dalla location, con questo vi saluto, vi mando un grande abbraccio, e vi aspetto al prossimo interattivo, ciao! Ciao!